cristiano cosa stai cucinando cristiano cristiano cosa stai cucinando crg cosa stai cucinando cristiano giuntoli allora ragazzi innanzitutto mettete mi piace al video prima cosa da fare mettete mi piace al video ovviamente come vi riporto come vi dico sempre poi ci saranno anche i video all'ufficialità dove andremo a parlare dettagliatamente delle trattative chiuse concluse in entrata in uscita ma intanto siccome non mi arrivano notizie riguardo appunto chi informa me ma io vi riporto sempre quando mi arrivano non sono come altri che si inventano le cose che sparano 25 robe al giorno e qualcosa prima o poi la indovineranno detto questo detto questo parentesi no anzi niente parentesi andiamo avanti vabbè allora allora qua parliamo solo delle trattative appunto chiuse fatte quant'altro che comunque ci riportano i giornalisti più importanti quindi alfredo pedullaggia luca di marzio romeo gresti soprattutto sono questi tre fabrizio romano forse l'ho già detto vabbè comunque sono questi allora solo sulle cifre sono un po in disaccordo a fare fatto moise ken alla fiorentina pedullag parla di 13 milioni più 3 di bonus mentre romano gresti fabrizio romano e gianluca di marzo dovrebbero parlare parlano mi pare di 13 milioni di euro più 5 di bonus dei quali due facilmente raggiungibili per arrivare a un 15 netto quindi questa è un po la trattativa per moise ken alla fiorentina che ha già trovato l'accordo da giorni si parla di un contratto da 2 milioni e 2 2 milioni e mezzo mi pare all'anno per tre o quattro anni per moise ken a firenze alla alla guida di raffaele palladino questa è la trattativa conclusa che verrà ufficializzata molto brevemente entro e non oltre il 30 giugno per una questione di bilancio allora qua da quello che ho letto io uno mi ha scritto ma per fare plus valenza o per non fare minus valenza bisogna venderlo a più di 14 milioni a me pareva e pare che romano gresti qualche giorno fa abbia scritto che per non fare minus valenza bisogna cederlo a più a una cifra superiore ai 9 milioni di euro insomma una roba del genere e quindi mi pare che siamo verso quell'ottica lì bene così bene così perché alla fine poi va bene parleremo dopo nella trattativa il voto lo daremo quando ci sarà l'ufficialità e quant'altro comunque io qua riporto solo le notizie ovviamente che riporto in giornalisti più importanti nazionali quindi sotto questo aspetto qua quindi 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 moise ken sarà giocherà a firenze dalla prossima stagione e adesso appunto entro e non oltre il 30 giugno oggi mi pare siamo il 27 se non vado errato quindi entro tre giorni si aspetta l'ufficialità siccome poi il 30 dovrebbe essere domenica e il 29 sabato molto probabilmente arriverà domani l'ufficialità detto questo detto questo quindi moise ken appunto sarà ufficializzato alla fiorentina soldi soldi che questo l'ha riportato di marzo ma l'ha riportato anche fabrizio romano pedulà è convinto ormai che che frene to run sarà un giocatore un nuovo giocatore a juventus di marzo ha riportato che la juventus spinge per chiude la trattativa che frene to ram entro e non oltre la prossima settimana quindi la prima settimana di luglio e quindi questi soldi parte di questi soldi incassati che verranno incassati a moise ken ovviamente in più rate ma comunque sono diciamo considerati a bilancio di fatto quindi verranno poi girati appunto per che frene to ram che probabilmente si chiuderà sky ha riportato oggi proprio su che frene to ram che la juventus vorrà appunto chiudere per la prossima settimana si parla addirittura addirittura di 18 milioni di euro bonus compresi non più bonus bonus compresi sarebbe una trattativa sicuramente importante un affare sotto questo aspetto anche se tu ram non ha fatto chissà che cosa però sicuramente sarebbe un ottimo affare vedendo l'età del giocatore le potenzialità che comunque può avere non è un fenomeno e la funzionalità nel progetto tiago motta è di fianco a un douglas luiz che tra l'altro sta svolgendo o comunque le ha già svolte le visite mediche con i medici della juventus l'ha iniziata le nove e mezza di las vegas cioè erano più o meno le 18 e 30 italiane quindi più o meno siamo credo che siamo verso la fine e vedremo se arriverà l'ufficialità nel caso farò un altro video arriverà l'ufficialità stasera o domani perché io credo che siano queste due date più io credo più domani detto questo è questo un po il quanto appunto perché free to ram si cercherà di chiudere la prossima settimana con questa base diciamo con 18 milioni bonus compresi e anche se sarà qualche bonus si arriverà magari sui 21 22 milioni come pensavo dato che comunque si è scesi da 30 a 25 e poi da 25 a 20 quindi bene o male è come è andata come diceva appunto che sarebbe andata romeo gresti niente queste sono le due trattative una conclusa di fatto a fare fatto e ovviamente si aspetta solo l'ufficialità di mosi e ken e l'altra comunque che si diciamo predispone per concludersi che è quella perché friend to run però anche la fino che non non abbiamo l'ufficialità o comunque l'accordo è meglio andare cauti queste sono le due operazioni di oggi cristiano giuntoli sta facendo veramente cose che altri dirigenti non hanno fatto per dieci anni sta accontentando tiago motta sia in entrata sia in uscita sono contento del suo lavoro fino ad ora partendo dall'esonero di allegri grazie anche sicuramente a francesco calvo e grazie poi al diciamo all'aver chiamato comunque tiago motta e poi altre cose sicuramente poi sbaglierà qualcosa perché è normale tutti sbagliano però sicuramente siccome partirà da un voto giusto solo solo per aver mandato via quello la e partirà da un voto che andrà siccome da 7 a salire a fine estate poi ovviamente qualcosa verrà criticato qualcosa verrà elogiato però solo per aver mandato via per aver fatto sì che a me a gente come me tornasse l'entusiasmo non solo con motta non per forza con motta ma semplicemente per aver cacciato via allegri poi motta sicuramente ha dato un qualcosa in più perché comunque in teoria dovrebbe giocare con difesa 4 in teoria dovrebbe essere un attore innovativo in teoria tante altre cose e poi bisogna vedere la pratica ovviamente è solo per questo dal 7 in su cristiano giuntoli alla faccia di quelli che dicevano l'anno scorso e criticavano già l'anno scorso cristiano giuntoli e io dicevo calma calma perché il primo anno è di assestamento si cercherà di convivere con allegri per poi cambiare magari e si spera ovviamente e poi appunto partire con un nuovo progetto dall'estate 2024 cosa dicevo tra l'altro qualche un anetto e mezzo fa che siccome si sarebbe partiti non dal primo anno di giuntoli ma dal secondo anno di giuntoli con un nuovo allenatore scelto da lui e blablabla quindi per il momento non sta deludendo poi ovviamente siamo solo all'inizio e quindi tempo per deludere c'è questo sotto questo aspetto sicuramente ma deludere fino a un certo punto va bene va bene così queste sono le due trattative quasi una chiusa l'altra quasi e adesso vediamo le ufficialità quando arriva l'anno di darles luiz di moise ken e quant'altro quant'altro c'è qualcuno che critica l'operazione ken grazie va in scadenza il prossimo anno è stato pagato 38 milioni svalutato nessuno lo voleva non sapevamo come venderlo per me è una buona una buona cosa poi vedo anche altri non giuventini rosicali sotto questo aspetto perché ken perché di qua perché di là va bene va bene così stiamo tornando già da queste cose si vede che la juventus sta tornando piano fino alla fine forza juventus e ci vediamo ovviamente con prossimi con altri video nei prossimi giorni ciao a tutti